Buongiorno, questo è il nostro laboratorio e questa è la macchina di cheese. Ora vi mostrerò il bel convegno, abbiando la protezione di sessizia. Il bel è fatto di un numero di strade di silicone con semisphericali. Ora l'operatore sarà fissato le molte, manualmente. Questa è la macchina lunga, circa 9 metri. È fatta nella parte alta di un numero di generatori magnetron. E alla fine questa è la seczione di calcio per calciare il prodotto dopo la cottura. Le uniti magnetron sono molto semplici e cambiabili. Con una connessione passata elettrica. Di sotto ciò ci sono portali per inspecciare rapidamente dentro l'ovno. e la cleaning. E questa è l'area di calciare. L'operatore sta manuagliendo manualmente la grata di cheese. Ma è ovviamente possibile sostituire con un feed automatico? Ora il grata di cheese entra nel tunnel di microwave. In alcuni minuti sarà perfetto coccato. E il prodotto è finito. Exit come un prodotto finito. Questo è il panel controllo con tutte le commande della macchina. Molto facile. E questo è anche il commande manuale. L'elettrica è installata nella macchina. Quindi la macchina è pronta per iniziare. E solo attraverà l'energia. Questa è la parte direttiva della macchina. Con il sistema di sciocciare. Che deve essere speltato fuori. E questa è la parte di calciare. Ora l'operatore si posiziona una box. Per recuperare il prodotto quando viene fuori. Credo che in alcuni secondi stanno arrivando. E vi mostro in alcuni secondi il prodotto coccato. Il prodotto è preparato. Per Sathapic è meglio mantenere la recuperazione. A presto! Anche sono。 Evidentero. Abonendere i viendo는 avanti. Lastecativi improvesiower. Level isimente come da pericare attraverso. Anche più! Un gran mese. L'aria della macchina è la casa! Seguito immagini usando un cook. Grazie.